Musica Virus primo morto salgono a 77 i contagiati e un 47enne di Mondragone che soffriva di diabete e problemi cardiaci la prima vittima del coronavirus in Campania all'ospedale di Sessa Aurunca. In quarantena medici e infermieri. De Luca chiude le disco e blinda le isole, il governatore ferma i locali della Movida in Campania, scatta anche il divieto per le comitive di raggiungere le isole del Golfo. A rischio il voto per le regionali che potrebbero slittare in autunno, rinviati gli stati generali di Forza Italia. Primo caso in Irpinia, positiva donna di Ariano, si tratta di una 59enne reduce da un viaggio in Turchia. Il pronto soccorso del frangipane resta chiuso perché è decimato dalle assenze del personale. Circa 35 persone sono in quarantena. Avviate le operazioni di reclutamento per riaprire il reparto al momento fuori servizio. L'allarme di Mastella, siamo come in guerra. Il sindaco di Benevento risponde all'emergenza sanitaria con una lezione in diretta sul canale 696 in cui parla di educazione civica ma anche del coronavirus. Il governo stabilisca misure per evitare il collasso dell'economia. In ospedale senza regole, caos nel Salernitano, coronavirus all'ospedale di Eboli, positiva una paziente trasferita da una clinica privata senza precauzioni. Scatta la quarantena per 40 tra medici e infermieri. In isolamento anche tre pazienti. Sul caso, dure accuse del governatore. Sono indignato, dice De Luca. 15 anni ucciso il padre, voglio solo la verità. Anche il papà di Ugo, il minorenne ucciso durante un tentativo di rapina a Napoli, ha preso parte al flash mob di solidarietà con i carabinieri. Mio figlio ha sbagliato ma non doveva morire così. E questi erano i titoli di oggi, ben ritrovati con l'informazione di 8 Channel News. È un 47enne di Mondragone, lo avete appena sentito. Il primo paziente campano deceduto affetto da coronavirus. Aveva patologie pregresse ma è giallo sul contagio. Quarantena per tutte le persone entrate in contatto con l'uomo. Intanto sale a 77 il numero dei contagiati in Campania. In quarantena anche 9 marittimi di una nave a Napoli. Sentiamo Sara Botte. Il primo paziente morto in Campania, risultato positivo al coronavirus, è un 46enne di Mondragone, Caserta, arrivato all'ospedale San Rocco di Sessa Orunca lunedì sera. L'infezione da Covid-19 gli è stata diagnosticata post-mortem. Era diabetico e sembra soffrisse di problemi epilettici che gli causavano crisi respiratorie frequenti. Martedì il decesso, il primo tampone, risultato negativo. Ieri la comunicazione dell'ASL Caserta, positivo il secondo tampone. Scattata così la quarantena tra le persone entrate in contatto con il 46enne, compresi i sanitari, sanificati, i reparti dell'ospedale. Mentre giallo su come l'uomo abbia contratto il virus, appello del sindaco di Mondragone, Virgilio Pacifico, che ha avuto rapporti con il deceduto, contatti l'azienda sanitaria di Caserta. Sale la preoccupazione in Campania, 77 il totale dei positivi al coronavirus. 700 i tamponi eseguiti dall'inizio dell'emergenza, 27 i casi riscontrati, solo tra ieri e oggi. In quarantena anche una nave, la GNV Majestic, ferma nel porto di Napoli. Nove dei marittimi sono in isolamento, si ipotizza un contatto con una passeggera sulla tratta via Genova, risultata positiva al test del Covid-19. Per ore bloccati 110 passeggeri, poi autorizzati a sbarcare dopo i controlli medici. In affanno anche gli ospedali, tilta al San Paolo, dove un medico ha accolto un paziente contagiato al pronto soccorso senza le dovute protezioni. Chiuso il reparto per la sanificazione, intanto al Cotugno, messo in campo un intero padiglione, 60 posti letto, per la cura di pazienti affetti da coronavirus, differenziati gli accessi per il pronto soccorso, per eliminare le tende pretriage. Discoteche e luoghi di svago chiusi, la regione rafforza i divieti per prevenire la diffusione del contagio, sbarchi interdetti nelle isole ai gruppi di turisti provenienti dai focolai del nord, allestite quattro postazioni mediche nei porti e ai moli di Napoli. E il coronavirus tocca anche la politica. Forza Italia rinvia gli stati generali e si pensa di far slittare le elezioni regionali in autunno. Sentiamo Lanzilli. Un altro giro di chiave per una stretta che si fa più forte. Il presidente De Luca ha voluto rendere più fitte le maglie dei divieti in Campania, soprattutto per la fascia giovane della popolazione, quella che ora si ritrova con più tempo libero vista la concomitante chiusura delle scuole. Con un'apposita ordinanza, fino al 15 marzo sono state sospese da subito le attività nelle discoteche e, più in generale, in tutti i luoghi di svago o di ritrovo che prevedono l'assembramento. Insomma, uno stop anche alla Movida, che per certi aspetti era attesa anche dagli stessi gestori dei locali, i quali però ora chiedono controlli rigorosi. Dalla regione è arrivata anche una limitazione per chi sbarca nelle isole. Divieti in particolare per i gruppi organizzati composti da più di sei persone provenienti dalle regioni dove sono presenti i focolai di infezione. Per tutti coloro che sbarcano, scatta la misura della temperatura. Attivate in oltre quattro postazioni mediche nei porti di Sorrento e Pozzuoli e ai Moli, Beverello e Porta di Massa. Queste finora le restrizioni, ma De Luca ha fatto sapere che la regione è pronta anche ad un piano B in caso di emergenza. La regione si sta preparando anche a questa evenienza, cioè di un contagio che diventa di massa. Come ci prepariamo? Ci prepariamo in questo modo, raddoppiando i posti letto in terapia intensiva. Problemi inoltre anche negli ospedali. La corsa all'acquisto di mascherine deve fare i conti con gli speculatori. L'ospedale San Paolo si è trovato a fare i conti con prezzi fino a quattro volte superiori per rifornire il personale. Il coronavirus fa sentire inoltre i suoi effetti anche sulla politica. Forza Italia ha annullato gli stati generali in programma il 22 marzo e dopo il referendum si fa strada anche l'ipotesi di rinviare all'autunno le elezioni regionali. C'è apprensione in Irpinia ad Ariano per il primo caso di coronavirus in provincia di Avellino. Si tratta di una donna di 59 anni, pronto soccorso e chiuso perché decimato del personale, circa 35 persone in quarantena, avviate le operazioni di reclutamento per riaprire la struttura. Al momento fuori servizio. Sentiamo Gianni Vigoroso. È una donna di Ariano in Irpino, ha 59 anni ed è moglie di un medico. La prima persona affetta da coronavirus in Irpinia, risultata positiva al tampone, è raggiunta in pronto soccorso lo scorso 5 marzo e da qui trasferita al Moscati di Avellino. Da allora e a causa di un secondo caso sospetto presentatosi nella notte, il pronto soccorso dell'ospedale Francipane è chiuso. Sei infermieri, tre os e tre medici solo in quarantena, come pure tre pazienti che erano presenti all'interno della struttura e un'intera squadra di operatori del 118. Circa 35 persone, secondo l'ASD, al momento sono in isolamento. In città la notizia ha fatto molto rumore suscitando queste reazioni. Ormai non si può più essere superficiali, quindi cerchiamo di salvaguardarci e salvaguardare l'utenza. Se si infettano tutti è un problema, spero che non accada niente di grave. Dobbiamo cercare di stare tutti a casa, stare serini, stare calmi e essere responsabili. Non bisogna creare alarmismi, dopo tutto muore più gente per influenza che per il coronavirus. Stare attenti alle precauzioni che si dicono, ma poi ne muovono soltanto poche, ne muovono più di influenza o di incidenti stradali. Non sappiamo se aprire, se tenere chiusi, la gente non passa, la gente ha paura. Poco preoccupati, sperando che si riesci a marginare quanto più possibile. La raccomandazione a coloro che manifestano qualche segno è di non andare in ospedale o quando meglio di prendere tutte le precauzioni. La paura ci sta purtroppo. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, risponde all'emergenza sanitaria con una lezione in diretta su 8 Channel 696 in cui parla di educazione civica ma anche del coronavirus. Il governo, dice, stabilisca misure per evitare il collasso dell'economia. De Lucia. Clemente Mastella, ai tempi del coronavirus, sceglie TV e web per dare il suo contributo con una lezione di educazione civica trasmessa in diretta da Canale 696. Un modo per dare ai ragazzi un input, uno spunto di conoscenza per evitare che la chiusura delle scuole fermi l'istruzione. Questo è uno sciame virale. Non sappiamo fino a quanto dura. Da noi ora la percezione è abbastanza modesta anche se a dire il vero bisogna essere tutti allarmati sul piano della precauzione. Parla dei comuni il sindaco Mastella e poi commenta anche le ritirate di missioni. Un atto provvidenziale in un momento difficile come questo un momento di guerra, la guerra a un virus in cui il comune non avrebbe avuto la guida. Chiede misure per fronteggiare la crisi economica il sindaco. Io sto sollecitando attraverso la regione e al governo stesso, attraverso l'assemblea dei sindaci italiani di prendere misure adeguate. L'Ox oramai dice che siamo in recessione pura e quindi bisogna intervenire non soltanto al nord ma anche in tutta Italia perché anche qua chiudono e non ce la fanno a tirare avanti perché io vedo i negozi che non va nessuno. C'è una situazione devastante purtroppo fino a quando non si torna alla normalità sarà così e quindi bisogna prendere misure straordinarie sperando anche che l'Europa dia una mano non sia vara, ingenerosa o in altre circostanze. E conclude con uno uspicio tutto sannita. Dice lo storico che i sanniti utilizzavano uno strano strumento mettendo la mano sulla bocca e facevano così facendo il pernacchio. Fu inventato il pernacchio e allora parte i sanniti rispetto ai romani. Noi ci auguriamo di vincere questa battaglia in modo da fare un grande pernacchio al virus, al coronavirus. E con le nostre telecamere siamo stati alla clinica Montevergine di Mercogliano per capire quali sono le procedure all'interno di una tenda pre-triage. Vediamo. Con il frangipane di Ariano quella della clinica Montevergine di Mercogliano è l'altra tenda pre-triage allestita in Irpinia in questi giorni di emergenza Covid-19. Posizionata all'esterno della struttura serve per una prima presa in carico di pazienti e dei loro familiari. Prima compiliamo un test in quanto chiediamo se il paziente ha avuto temperatura, tosse e tutti i sintomi relativi al coronavirus. Poi chiediamo se è stato fuori regione o fuori d'Italia, se è avviaggiato ultimamente e se è stato a contatto con qualche caso di coronavirus. Inoltre misuriamo la temperatura corporea e se la temperatura risulta 37 gradi centigradi il paziente viene inviato a domicilio. Se si riscontrano dei sintomi che possono essere riconducibili al coronavirus che fate a quel punto? Allora a quel punto lo facciamo accomodare nel primo soccorso della nostra struttura e poi vengono allertate alle vigilanze il sindaco. Noi stiamo vivendo, ripeto, con la massima intensità e concentrazione possibile pensando di dover fare un giusto servizio nel rispetto dei nostri operatori sanitari ma soprattutto nel rispetto dei pazienti che entrano. I pazienti apprezzano l'iniziativa realizzata grazie alla protezione civile pur della comprensibile preoccupazione di questi giorni. Tutte le cose che vengono fatte per prevenzione, per queste cose qui, comunque vanno benissimo. Pure per dissipare un po' i timori che hanno le persone per farli stare più tranquilli. Vedo queste cose qui e mi viene il panico. È un'ottima iniziativa però penso che c'è un po' un'alte e basse dal preoccuparsi al non preoccuparsi. La gente è confusa e timorosa. E all'ospedale di Eboli positiva una paziente trasferita da una clinica privata senza precauzioni. Scatta la quarantena per 40 tra medici e infermieri. In isolamento anche tre pazienti. Sul caso dure accuse del governatore De Luca c'è da essere indignati ma i sindacati precisano serve più collaborazione dai pazienti. Sentiamo. È davvero sconcertante il livello di responsabilità che abbiamo registrato nella vicenda di Eboli c'è da essere indignati e il duro commento del governatore della regione Campania Vincenzo De Luca che dalla sua pagina Facebook commenta la vicenda del caso positivo di coronavirus all'ospedale Salernitano Maria Santissima addolorata in quarantena 40 persone tra medici, infermieri e ausiliari in servizio nel nosocomio della Piana e al Campolongo ospita le tre pazienti della struttura sanitaria privata dalla quale proveniva la 72enne di Pompei risultata infetta solo dopo il trasporto in ospedale era stata sottoposta a un intervento all'Anca lo scorso 29 febbraio la paziente nella serata di ieri è stata trasferita al Cotugno di Napoli il trasferimento da una struttura privata di un paziente senza controllo preventivo ha determinato una situazione di emergenza della Piosa De Luca alcune sigle sindacali parlano di superficialità per come è stata trattata la vicenda esponendo i lavoratori a gravi rischi ma la responsabilità ribadiscono e anche dei cittadini e dei pazienti i cittadini che dovrebbero essere i primi interlocutori rispetto ad una situazione emergenziale come questa sono quelli che non rispettano le regole e infatti sembrerebbe che il tutto sia nato per dei contatti avuti con il figlio che faceva la spola tra Eboli e Milano il personale che ha avuto contatto con la persona è stato messo in quarantena sono stati evacuati i locali dove la persona ha alloggiato e sono stati sanificati nell'immediato a Napoli i carabinieri della Compagnia Stella all'interno del rione Forcella sono intervenuti in una pescheria abusiva in un bar e in tre macellerie nella pescheria abusiva gli alimenti in vendita non rispettavano le normative sulla tracciabilità e sulle prescrizioni igienico-sanitarie l'attività è stata chiusa un bar in via Giudecca Vecchia è stato chiuso e multato perché del tutto abusivo nei guai la titolare una 18enne di Napoli gravi carenze igieniche in una macelleria al cui titolare è stata imposta la sanificazione degli ambienti e l'eliminazione della ruggine dalle celle frigorifere dove era conservata la carne destinata alla rivendita irregolarità e lavoratori in nero in altre due macellerie i carabinieri della compagnia stela sono intervenuti assieme a quelli del reggimento Campania del NAS del personale dell'ASL e dell'ispettorato del lavoro l'importanza dei medici di base per arginare la diffusione del covid-19 regole rivoluzionate per i medici di famiglia che ora hanno a disposizione le linee guida per effettuare una prima diagnosi telefonica ciò che prima appariva come un'eresia in medicina oggi sta contenendo i contagi sentiamo Fallarino sono i medici di base il fronte della guerra contro la diffusione del coronavirus il presidente dell'ordine dei medici di Benevento rimarca l'importanza delle nuove norme alle quali i medici generici si stanno attenendo per contribuire ad evitare l'inutile affollamento dei pronto soccorso a Benevento per il momento non si resegnalano criticità ma anche e soprattutto per la rete dei cosiddetti medici di famiglia che funziona bene la gestione del problema coronavirus nella provincia di Benevento è stata finora ottimale sia da parte delle strutture ospedaliere l'azienda Sambio il fate bene i fratelli sia da parte dell'asile che ha messo in atto tutte quelle che erano le procedure previste dal protocollo nazionale recepito poi da quello della regione un plauso particolare va ai colleghi della medicina generale e pediatri di libera scelta che sono lo snoto centrale di tutta questa problematica che hanno dato la loro disponibilità ad effettuare questo triage telefonico che permette di selezionare a casa i pazienti a rischio e quelli che invece non sono a rischio invitando così di intasare i pronti soccorso poi un plauso a coloro che rientrati nel Sannio da Milano hanno comunicato il loro arrivo e si sono messi in auto quarantena hanno dato un senso di civiltà notevole sono tornati dalla Lombardia e si sono auto come dire chiusi nei 14 giorni di quarantena proprio per evitare non sapendo non si sono andati posti a tamponini si sono chiusi 14 giorni nella loro case evitando così di essere pure un minimo veicolo di contagio questo dovrebbe essere l'atteggiamento che dovremmo prendere un po' tutti noi il Tribunale di Avellino non garantisce le norme igieniche adeguate in questi giorni di emergenza Covid-19 questa la denuncia degli avvocati Irpini che rispondono così all'ANM che solo ieri aveva espresso apprezzamento per il lavoro del presidente Beatrice sentiamo sulle condizioni igieniche del Tribunale di Avellino ai tempi del coronavirus scontro tra magistrati e avvocatura dopo l'astensione dei legali interviene l'ANM per difendere l'operato del presidente Beatrice polemiche sterili scrive in una nota Fabrizio Ciccone sono state adottate misure adeguate per la sicurezza e la salute pubblica ma la camera penale controbatte disposizioni non rispettate addirittura nei bagni sono arrivati i dispenser a spese dell'ordine ho fatto delle riprese nei servizi igienici anzi nei servizi antigenici del primo piano del Tribunale di Avellino una situazione assolutamente indecente è la solita situazione indecente dei servizi igienici del Tribunale di Avellino ma ovviamente aggravata dalla situazione che stiamo purtroppo vivendo ad Avellino e non solo ad Avellino se l'ANM ritiene che il presidente Beatrice ha fatto tutto ciò che andava fatto per tutelare la salute di tutti coloro che vivono il Tribunale come i magistrati gli avvocati il personale di cancelleria gli imputati le persone offesi i testimoni sarà come dice l'ANM io non condivido perché non credo che sia così l'Avvocato Aufiero spiega anche le ragioni che lo hanno spinto a non aderire allo sciopero proclamato dall'organismo congressuale forense io non aderisco all'astenzione perché ritengo che l'astenzione non sia e non possa essere e non debba essere il surrogato di provvedimenti che devono emettere le istituzioni e chi le rappresenta degnamente o talvolta indegnamente da ieri sera e da questa mattina in poi possiamo dire che dei provvedimenti sono stati emessi sembra che da lunedì ci sarà un periodo di sospensione dalle attività giudiziarie per 15 giorni Vincenzo Russo papà di Ugo il 15enne ucciso in via Orsini a Napoli da un carabiniere libero dal servizio per difendersi da un tentativo di rapina ha partecipato al flash mob a sostegno dell'arma organizzato da un comitato spontaneo di cittadini all'esterno della caserma Pastringo vogliamo solo la verità mio figlio ha sbagliato e ha pagato caro ha spiegato Russo che sul pronto soccorso del pellegrini devastato dopo la morte del figlio ha aggiunto va condannato anche quel gesto ma è stato dettato dal dolore la manifestazione era stata organizzata da un comitato di cittadini tra gli altri era presente anche il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli è stata sgozzata dal marito ed è viva per miracolo ma quanto accaduto non era un caso isolato prima dell'aggressione aveva presentato quattro denunce per maltrattamenti tutte finite nel nulla arriva in Parlamento il caso di Sonia Bianchi la 34enne di Olevano sul Tusciano nel Salernitano aggredita dall'uomo che poi si è suicidato il servizio arriva in Parlamento il caso di Sonia Bianchi la 34enne di Olevano sul Tusciano accoltellata alla gola dal marito dopo l'ennesimo litigio l'uomo si è poi tolto la vita impiccandosi in un terreno poco distante mentre la giovane è sopravvissuta nonostante le gravi ferite la deputata Anna Bilotti ha presentato un'interrogazione al ministro della giustizia Alfonso Bonafede anche perché il tentato femminicidio avvenuto in provincia di Salerno non era stato un episodio isolato il papà di Sonia infatti aveva raccontato che la figlia aveva già presentato quattro denunce per maltrattamenti e minacce eppure è stata l'amarezza del genitore mai erano scattati i provvedimenti giudiziari Bilotti ha portato il caso in Parlamento perché quanto accaduto contrasta con la recente approvazione del Codice Rosso la legge varata a luglio che ha tra gli obiettivi proprio quello di evitare la degenerazione di episodi a rischio e quello di Olevano era uno di questi evidentemente ma qualcosa non ha funzionato e si è arrivati alla tragedia con la 34enne sgozzata e viva per miracolo e l'uomo che invece si è tolto la vita la deputata firmataria dell'interrogazione chiede al ministro se siano state rispettate le norme e la corretta applicazione del Codice Rosso la Bilotti ha poi voluto incontrare personalmente Sonia e suo padre è una donna forte e intenzionata a lottare perché quello che è successo a lei non avvenga più le parole della deputata salernitana Ancora un'auto in fiamme nella notte all'orione Libertà di Benevento si tratta del secondo veicolo incendiato nel capoluogo Sanita in sole 24 ore stavolta in via Napoli nel parco dei cosiddetti Palazzi Blu a finire nel mirino di qualcuno è stata una Renault Megane che il proprietario aveva parcheggiato nei pressi della sua abitazione il veicolo è stato completamente distrutto dalle fiamme e poi spente dai pompieri del comando provinciale sul posto sono intervenuti anche gli agenti della volante che hanno avviato le indagini l'incendio segue quello di 24 ore prima in via Bonazzi dove le fiamme avevano attaccato una Fiat Marea torniamo ad Avellino un piano per le strutture sportive del capoluogo il sindaco Festa rilancia la sfida nuovi fondi per riconsegnare ai cittadini impianti abbandonati e da riqualificare Carmine Quaglia l'obiettivo di regalare ai cittadini e agli sportivi impianti ammodernati e soprattutto sicuri il rilancio di diverse strutture in più punti del capoluogo è questa l'ambizione del sindaco di Avellino Gianluca Festa il campo coni inaugurato con il governatore Vincenzo De Luca è in attesa della riapertura ufficiale partirà a giorni c'è stata questa consegna insomma più volte l'ho ricordato la regione aveva l'esigenza di trasferirci i lavori non ultimati perché Lauro stava terminando la sua azione quindi noi abbiamo preso in carico l'opera non ultimata a giorni la apriremo stiamo organizzandoci per poter far utilizzare anche le docce o alcune docce ai fruitori questo era l'ultimo aspetto che mancava il restyling del campo sportivo di Borgo Ferrovia e del Roca di San Tommaso la riqualificazione del campo B del Partenio Lombardi il rifacimento della tendostruttura al campo coni utile anche per il calcio a 5 festa ha richiamato l'attenzione di Palazzo San Giacomo per fare questi interventi per realizzarli occorrono anche finanziamenti auspichiamo che la regione ce li possa assegnare per ciò che riguarda il campo coni aspettiamo lo sblocco del predissesto per poter contrarre un mutuo almeno per realizzare il campo sportivo di Borgo Ferrovia e l'intervento di riqualificazione del Roca mentre per quanto riguarda il campo B a questo punto con il cambio di proprietà l'auspicio credo anche concreto è quello che se ne possa occupare l'U.S. Avellino Tariffe agevolate e la garanzia di essere accompagnate fino all'uscio di casa a Salerno in occasione dell'8 marzo sarà attivo da domani e per tutti i fine settimana il Taxi Rosa un'iniziativa finalizzata a sostenere le donne sole nelle ore notturne vediamo il servizio una festività in tono minore quest'anno ma che si vuole comunque onorare a Salerno il gruppo PSI di Massimiliano Natella Paolo Ottobrino e Veronica Mondani ha attivato il Taxi Rosa a partire dall'8 marzo e per tutti i fine settimana dalle 22 alle 4 del mattino un'iniziativa promossa in collaborazione con la cooperativa Cotasa che rappresenta la quasi totalità dei tassisti salernitani Per le donne che sono in difficoltà magari in orari notturni che magari vogliono spostarsi per necessità o per scelta per raggiungere luoghi di aggregazione possono anche prendere hanno la priorità sulla chiamata le donne sole possono prendere il taxi e raggiungere ecco i luoghi di aggregazione e non solo quando poi rientrano tardi diciamo in serata in orari in cui il servizio pubblico è ridotto possono soffrire non solo della tariffa agevolata ma anche dell'accortenza poi del tassista che ne riaccompagna aspetta che apra il portone ecco ci sono determinate determinati accorgimenti per la sicurezza delle donne magari anche delle mamme che sono a casa vogliono prenotare il taxi all'uscita della discoteca per le figlie e questo è possibile e l'importanza di questa iniziativa è proprio la priorità sulla chiamata e il viaggiare in sicurezza per tutte le donne e voglio ringraziare la cooperativa che ha accolto questa nostra proposta la cooperativa dei tassisti salernitani e si sono messi ecco subito resi disponibili è tutto per questa edizione di 8 Channel News canale 696 grazie regia a Michele Urciuolo ora ci sono le previsioni del tempo poi il TG Sport arrivederci a Michele Urciu a Michele Urciu a Michele Urciu